Il sindaco Giovanni De Luca di Fiume di Nisi, un giorno importante per il suo paese, si è partito da qua per il metano e adesso c'è l'inaugurazione. Il sindaco Giovanni De Luca ebbe il coraggio e l'ardire di mettere insieme altri 14 colleghi formando la convenzione Bacino Sicilia Ionico Peloritano, si fece la gara, si individuò un concessionario, si partecipò a dei bandi, dopo tante peripezie dovute alla burocrazia e anche alle naturali lungaggini dei lavori pubblici, oggi grazie a Dio, grazie al nostro lavoro, alla nostra perseveranza abbiamo avuto il piacere e l'onore di inaugurare questa importantissima opera perché questo nostro territorio era uno dei pochi, se non l'unico, non servito a livello regionale dal gas metano. Quindi una data storica che ricorderemo sicuramente non solo per la comunità di Fiume di Nisi, che è comune capofila, ma per altri comuni della riviera Ionica, completeremo, come diceva l'onorevole lo giudice, i lavori nei comuni al di sotto di mille abitanti a Lima, Danici e Antillo quanto prima, però possiamo dire che oggi ufficialmente il metano entra nelle case dei cittadini della riviera Ionica. Dieci anni fa era una scommessa per 15 comuni e tra virgolette neanche i cittadini di questi paesi ci credevano che quest'opera si potesse realizzare, invece si è sfadato il coso della rassegnazione, diciamo che la riviera Ionica può godere di maggiore efficienza e può avere che il freddo nelle case è finito. Sì, come hai detto giustamente tu e come ricordava prima il sindaco della città metropolitana Cateno De Luca, la rassegnazione è il male da vincere, il principale male da vincere per noi amministratori, per le cittadinanze. Noi diciamo come amministratori abbiamo delle grosse responsabilità, è giusto crederci quando si fanno delle cose, vincere la naturale diffidenza soprattutto quando si tratta di opere pubbliche e di servizi che vanno in favore della cittadinanza. Da oggi chiaramente ciascuna famiglia può farsi bene i propri conti per vedere un attimo di allacciarsi alla rete del metano e senza soluzione chiaramente di continuità, finalmente un servizio che da altre parti del mondo, dell'Italia e della Sicilia è normalità da tantissimi anni, per noi non lo era, da oggi lo è, quindi auguri a tutti noi, auguri alla riviera Ionica, speriamo di portare avanti altri progetti importanti per le nostre comunità in maniera sinergica come abbiamo lavorato in questi anni, questo è stato anche un grosso attestato di merito per la collaborazione di tanti amministratori, vecchi sindaci a cui va il mio saluto e il mio ringraziamento che oggi non ricoprono più la carica pubblica di sindaco e di assessori eccetera e i nuovi sindaci e anche tutti i tecnici che hanno collaborato, è stata una vittoria anche da questo punto di vista della collaborazione, della gestione unitaria di un lavoro pubblico, quindi questo ci deve fare riflettere per le future esperienze.